Ha preso il via a potenza la campagna di promozione sul sostegno a distanza, inteso come strumento di cooperazione tra popoli ed educazione alla mondialità. Fino al prossimo mese di giugno saranno organizzate attività, eventi ed incontri di sensibilizzazione e di informazione sul tema. In occasione dell'arrivo dei referenti del programma in El Salvador, intanto è andata in scena la prima edizione della festa del sostenitore, promossa dal gruppo di volontariato Solidarietà. Presso il sagrato della chiesa di Sant'Anna, tanti gli eventi andati in scena nella giornata di ieri, a partire dalla premiazione di alcune significative esperienze di sostegno a distanza. Presenti anche Mariella Tappella, missionaria laica da anni impegnata nella cultura, nel sociale e nella politica e al fianco dei poveri di El Salvador, dove risiede dal 1987. E padre Rutilio, sacerdote salvadoregno laureato in giornalismo, che presiede un'associazione a servizio delle comunità contadine, il cui obiettivo è animare la speranza attraverso un lavoro di riscatto umano e sociale.